Oggi siamo in Valle Maira con destinazione Lago Resile. Da Marmora seguiamo le indicazioni per Castelmagno e De Monte che ci portano verso il colle di Esischie. Ci fermiamo a Tolosano che è una borgata del comune di Marmora dove risiedono ancora stabilmente 11 persone. Ed ammiriamo queste mandrie di munche al pascolo. Il nostro viaggio prosegue in direzione Granja Lauset. Attraversiamo delle pinete che sono veramente spettacolari. Ecco anche una fioritura di macchiociondoli. Altre mandrie al pascolo in questi territori incontaminati. Grazie a tutti. Eccoci giunti all'indicazione per il Lago Resile. Con una passeggiata di circa 10 minuti si raggiunge comodamente il lago. È di origine glaciale ed è originato per sbarramento morenico. Il lago si trova ad un'altezza di 1986 metri. È lungo circa 90 metri e largo circa 30. la profondità. La profondità massima è di 2 metri. Ecco le immagini di alcuni degli abitanti di questo laghetto. dapprima timidi ma poi si avvicinano alla telecamera. Questo è un angolo veramente meraviglioso con i larici e le nuvole che si specchiano nell'azzurro del lago e i campi attorno tutti fioriti. Spettacolo veramente eccezionale. Musica Musica Rifacciamo a ritroso il percorso che ci porta verso il parcheggio. Riprendiamo il nostro viaggio in direzione col Desischie. Musica Una tappa è d'obbligo per ammirare il panorama che ci circonda. Ecco una bella fioritura di Rododendri. Come varia il tempo in Valle Maira c'è il sole. Verso la Valle Grana e la Valle Stura ci immergiamo in una nebbia. Musica Eccoci giunti ai 2370 metri del Col Desischie. Con questa nebbia è impossibile vedere qualsiasi panorama. Musica Proseguiamo il nostro viaggio in direzione Castelmagno. Dal lago Resile un saluto a tutti da Walter. Musica 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 Musica